E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui e vi faccio vedere questo nuovo pack opening di Harry Potter Kinder Joy Siamo alla ricerca dell'Harry Potter dorato Nell'ultimo video abbiamo trovato questi personaggi qui Però per fortuna nemmeno un doppione Adesso andiamo ad aprire il secondo pack Poi domani che devo andare a fare la spesa ragazzi Che mi sono dimenticato di prendere alcune cose Voglio vedere se hanno rifornito lo spazio dove c'erano riposti questi Kinder Che prenderò altri due Per andare a cercare questo Harry Potter dorato ragazzi Visto che comunque costa sulle 500-1000 euro Ho visto uno che l'ha messo addirittura a 2000 euro Questo è Harry Potter dorato E quindi speriamo di trovarlo Questo ragazzi è come fosse uno spacchettamento Pokémon alla fine Ok Siamo pronti qui Ok eccoci qua E andiamo ragazzi a vedere se riusciamo a trovare L'Harry Potter dorato Se lo troviamo ragazzi abbiamo fatto jackpot Specialmente se riusciamo poi anche a venderlo Ecco qua l'altra sorpresa Qui Questo è un gadget che poi va messo qui Questo adesivo penso Questa non c'era nemmeno sulla checklist E infatti ragazzi questo non c'è sulla checklist Vabbè comunque abbiamo trovato questa specie di braccialetto Però non è un doppione Vediamo qui sugli altri due Abbiamo trovato Hermione Granger Ah mannaggia mannaggia È rimasto solamente uno ragazzi Speriamo che abbiamo trovato questo Harry Potter dorato Ecco qua Hermione Granger Con la sciarpa Di Grifondoro ragazzi Molto ben fatta Mettiamo vicino A Harry Andiamo ad aprire l'ultimo ragazzi Dai 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 e questo cos'è qua? è tipo un gioco di carte cos'è? ops è pure rotto questo è tipo un gioco di carte mi sa ma Massimo è una cosa che ah ecco è una torre di quidditch si mette l'adesivo intorno alla torre e vedete questo andiamo a fare questa operazione ragazzi ci vediamo tra poco ok eccoci qua che ho inserito gli adesivi su questa torre di grifondoro con ermione e poi questo tipo di bracciale e niente ragazzi non abbiamo trovato l'Harry Potter d'oro e niente mettete un piacere commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti 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 ciao a tutti